eccomi o stasera sulle nove e mezza magari niente niente riesco anche a caricarlo a un orario decente non l'ho neanche più condivisi non riesco a fare un tubero in questi giorni sono stramega impegnatissime mille mila cose progetti indagini casini vari ed eventuali non ce la posso fare anzi se volete condividere i miei video su vari gruppi social sui vostri account a me ma aiutate perché questi giorni non riesco a condividerli io ma a parte lo sfruttamento il tentato sfruttamento di amici e conoscenti lady ghost e lady sadako salutano l'altra lady ancora non ha un nome ma gliene troverò uno tanto devono spostarsi anche loro perché devo cambiare stanza porterò il computer poi su dall'altare per questioni meramente pratiche perché qua devo togliere il magazzino che devo farci una camera una stanza e quindi dovrò spostare tante cose viene l'ansia già a pensarci al momento che dovrò sbaraccare tutto il bambrandacqua a tai paraflu mi viene l'ansia ma facciamo il video stasera un chucksie evoca e lo so che non mi piacciono tantissimo mi chucksie evoca ma invece a me piace farli perché molte volte in determinati film o serie o cartoni animati o quant'altro ci sono delle morali anche occulte spiritiche esoteriche e ci sono anche dei bellissimi accenni alle tematiche che poi affronto o che ho già affrontato nei video della spiegazioni paranormali e in altri tipi di video quindi anche i chucksie evoca ci stanno i miei chucksie evoca normalmente a parte qualche rara eccezione sono basati su film o su serie che in pochi hanno visto o guardano qui da noi in italia ma proprio perché le altre culture in giro per il mondo ho fatto alcuni chucksie evoca turchi la maggior parte cinesi qualche giapponese e poi sì c'è stato anche qualche chucksie evoca di film americani o italiani però in generale diciamo che ci sono nazioni che raccontano meglio facendo capire meglio determinate cose questo chucksie che è un fantasy storico si intitola in inglese twisted fate of love gli sballamenti del destino dell'amore di cosa parla di tantissime cose ma prima ve lo racconto tutto spoilerandolo brutalmente come al solito e poi vi dico i punti che aiutano a ragionare sul discorso invece del paranormale siamo presumibilmente durante la dinastia shang chiamata anche dinastia in in che ormai è quasi entrata nella leggenda è la seconda dinastia dopo la dinastia xia e sono delle dinastie cinesi antiche alle quali ai giorni nostri sono arrivate pochissime nozioni e quasi tutto è avvolto un po nel mito e nella leggenda c'è un primo ministro che all'inizio non è un primo ministro ma è semplicemente un funzionario di corte che si fa chiamare feng ji e c'è un principe che poi durante il corso della della serie comprende 44 puntate un principe per l'esattezza il terzo principe dell'impero che si chiama pang yu poi c'è la bella di turno l'eroina la protagonista la protagonista è una ragazza che viene poi chiamata perché viene chiamata perché la serie comincia durante una feroce battaglia tra un esercito ribelle capitanata dal duca lu capitanato dal duca lu che crea una sommossa contro l'impero e l'esercito appunto imperiale nel quale presumibilmente fa parte anche dong yu e la protagonista ma a un certo punto durante la battaglia mentre la battaglia in fervora e stanno morendo a decine sia i soldati di una fazione che i soldati dell'altra e anche un sacco di civili che vengono attaccati dai soldati stessi perde la vita anche dong yu e poco prima di perdere la vita girando lo sguardo vede uscire dal portone principale dalle mura della città assediata la figura di un uomo in controluce lo riconosce come il primo ministro di destra ma finisce tutto lì è buio dong yu e è morta si ritrova su una foglia di ninfea un enorme foglia di ninfea in mezzo a una sorta di lago con davanti un uomo incappucciato che non fa vedere il suo viso che tiene tra le mani un flauto di giada bianca sta suonando il flauto lei lo chiama riu gli dice che lei è morta durante la attentato ma che non sarebbe dovuto morire che lei voleva sventare l'attentato che lei non sopportava l'idea di tutte quelle morti innocenti allora riu gli dice vuoi provare a cambiare le sorti della battaglia posso mandarti indietro dimmi tu quando vuoi tornare in che momento vuoi tornare indietro lei ci pensa e gli dice voglio tornare abbastanza indietro voglio tornare a otto anni prima della battaglia in modo da avere il tempo di uccidere di assassinare il duca lu nel momento in cui io riesco ad assassinare il duca lu la ribellione non avrà più senso riu comincia a suonare il flauto dopodiché glielo dà in mano a dong yue dicendole che per tornare indietro pagherà però un prezzo dong yue accetta a un certo punto la si vede uscire dall'acqua mentre la voce di riu ancora nella sua testa le sta dicendo ti costruirò un nuovo corpo un corpo di radice di loto si potrà aggiustare da solo ogni volta che entrerà a contatto con l'acqua proprio come le radici del loto quindi le tue ferite guariranno e via dicendo questo flauto che lei si ritrova ad avere addietro ti proteggerà o infuso in questo flauto un po del mio potere spirituale lei appunto sta uscendo dall'acqua si ritrova in una sorta di villa di campagna vede un abito appeso e siccome è bagnata e ha solo una una sottoveste addosso si indossa si prende quell'abito appeso e se lo mette addosso continuando a camminare ma non ricorda niente ha un vuoto di memoria non ricorda nemmeno come si chiama a un certo punto si rende conto che ci sono altre persone ci sono una sorta di guardie lì intorno e c'è un signore che sembra nobile e giovane una ventina d'anni è appunto feng ji in quel periodo è appena entrato a palazzo imperiale come un semplice consigliere di corte è molto altezzoso e tende a utilizzare tantissimi giri di parole per fregare sempre chiunque parli con lui ha una parlantina estremamente rapida e veloce ma non si capisce mai quando parla sul serio e quando invece mente su qualcosa nel corso delle puntate don ju e lo incontrerà molto spesso riconoscendolo anche come figura che lei aveva intravisto uscire dal portone della città assediata inizierà quindi a ricordare il nome don ju e glielo ha dato proprio lui perché nel loro primo incontro appunto all'uscita dal lago dopo che vengono attaccati da un gruppo di banditi non ben identificati e lei combatte praticamente al fianco di feng ji quando lui le chiede come ti chiami lei gli risponde molto sinceramente non lo so non lo ricordo e lui gli darà allora il nome don ju e in onore del fiore di rusco il fiore di rusco sarebbe l'agrifoglio una specie di agrifoglio che lei sostiene di amare tanto come tipo di fiore da quel momento sarà don ju e tornando alla storia più lo incontra e lo conosce e più è convinta di aver visto lui come possibile cospiratore alleato con il ducalù e quindi in parte colpevole della rivoluzione tanto da tentare anche di ucciderlo ma poi non lo ucciderà avrà dei dubbi su la sua onestà perché feng ji fa sempre credere a tutti quelli che lo conoscono di essere un uomo estremamente scaltro ma anche estremamente attaccato al potere collabora realmente con questo duca lu e cerca di collaborare anche con altri personaggi che ruotano intorno alla corte come il duca shin e un altro duca ancora e come il primo ministro di sinistra che però nutre sempre forti dubbi su di lui l'arrivo di don ju e nella città e nella vita di feng ji ma non solo di feng ji anche del terzo principe pang yu perché in altre circostanze si sono conosciuti all'inizio la conosciuta come uomo visto che lei per entrare nel servizio del ministero dei riti si finge uomo e per fingersi uomo dichiara che quel determinato giorno quella determinata ora della sera avrebbe iniziato a nevicare il padiglione dei riti la sfotte la prende in giro dicendogli che non sa neanche predire un mal tempo e un buon tempo dato che si trovano in luglio dato che era tre mesi che subivano la siccità e oltretutto il cielo era completamente terzo quando don ju e nei panni di un uomo ancora incontra il terzo principe pang yu gli ripete la stessa cosa lei aveva acquistato un ombrello da un venditore ambulante siccome il terzo principe risulta essere molto simpatico e amichevole perché è un personaggio estremamente filosofico ma anche molto portato alla bontà la carità è una persona buona sostanzialmente gli aveva offerto un panino dolce e altre cose e lei per rincambiare gli aveva regalato questo ombrello dicendo gli ha breve e nevicherà è meglio che lo usiate ma anche il terzo principe l'aveva un po' guardata con scetticismo c'è un sole che spacca le pietre siamo in luglio stiamo passando siccità da mesi che nevica ma lei lo sapeva perché aveva letto nella sua esistenza diciamo precedente le nozioni riportate su un libretto mensile che usciva nella città della capitale che si intitolava proprio le novelle della capitale e aveva ricordava di aver letto che in quella giornata ci sarebbe stata una nevicata fuori programma che aveva comunque aiutato tutta la problematica portata dalla siccità dei mesi precedenti lei però non leggeva sempre queste novelle ma diciamo che qualcosa ricordava in effetti verso sera arriva la nevicata tanto che viene reintegrata e viene assunta definitivamente nei panni di uno del padiglione dei eriti nei panni maschili che stava fingendo che utilizzava per fingere di essere un uomo ci saranno tante questioni di poco conto appunto lei indovinerà qualche cosina perché ricorda cosa era successo in quei giorni e cosa aveva letto nelle cronache delle novelle della capitale delle cronache della capitale e diventerà sempre più rispettabile e conosciuta ma poi si verrà a scoprire che è una donna subito l'imperatore stesso la vorrà punire perché fingere di essere un uomo quando si è una donna o viceversa è mentire all'imperatore stesso e quindi rischiava la pena di morte ma riusciranno in parte a salvarla sia il terzo principe che si sta innamorando di lei e sia anche Feng Ji che anche lui si sta innamorando di lei ma Feng Ji ha dei segreti Feng Ji sta tramando ma non si sa bene per cosa e per chi lei per un periodo lo frequenterà fino a innamorarsene seppur in realtà lei si sentisse estremamente innamorata e legata a quello spirito incappucciato che l'aveva fatta tornare nel presente e che lei ricordava vicino a lei sin da quando era bambina cioè è Ryu però viene si sente comunque attratta anche da Feng Ji iniziano una storia insieme il terzo principe inizia a ingelosirsi ma è troppo buono caratterialmente troppo onesto come persona per poter forzare chiunque però comincia a diventare un po' nemico di Feng Ji c'è da dire che il terzo principe e Feng Ji erano amici da bambini o meglio da adolescenti avevano portato Feng Ji quando era adolescente alla dimora del terzo principe di poco più piccolo di lui quindi adolescente anche lui come compagno di studi e di gioco erano stati molto molto amici e Feng Ji lo aveva sempre protetto al terzo principe ma poi successe che in una determinata giornata Feng Ji ancora bambino tentò di avvelenare il primo ministro della sinistra venne colto sul fatto e il principe appunto molto onesto e persona retta per non farlo incolpare dal padre che era l'imperatore avrebbe rischiato la pena di morte mise tutto a tacere ma lo allontanò per sempre dalla sua dimora rimasero poi amici ma senza più frequentarsi fin quando non incontrarono entrambi Dong Ji comunque appunto il terzo principe è una persona estremamente onesta l'unica cosa però che un po' lo fa accanire contro Feng Ji è proprio questa serie di possibili indizi che in realtà Feng Ji stia in qualche modo tramando contro la corte a fargli pensare non in maniera disonesta però da dire io intanto indago perché se fosse vero che Feng Ji è un traditore io comunque faccio il mio dovere scopro un traditore quindi non faccio nulla contro la mia etica morale e in più magari riesco a portare dalla mia parte Dong Ji e magari me caca pure ma Dong Yue nonostante abbia millemila dubbi su Feng Ji perché a volte certe sue mosse la portano a pensare che in realtà sia realmente alleato col Ducalù e il fatto che Feng Ji nonostante sia dichiaratamente innamorato di lei non le dice la verità non le spiega nulla rimane sempre sul vago e via dicendo la fa arrivare al punto di non fidarsi più di lui tanto da durante una missione nella quale avrebbe dovuto portare a termine determinati compiti un uomo inviato da Feng Ji dal Duca Lu Dong Yue decide di seguire questo personaggio questo soldato questo tirapiedi mandato da Feng Ji e e sgominare il gruppo del Duca Lu assassinando il Duca Lu parte quindi vestita in maniera soldatesca per cercare di andare a uccidere proprio il Duca Lu ci aveva già provato un paio di volte ma Feng Ji l'aveva sempre gli aveva sempre messo i bastoni tra le ruote e anche da lì i suoi sospetti aumentavano tanto da farla anche stare male perché da una parte era innamorata di lui ma dall'altra se lui fosse stato un complice del ribelle Duca Lu avrebbe comunque voluto anche la sua morte quindi parte per sgominare questo intreccio e cercare anche di assassinare il Duca Lu ma durante questa missione kamikaze viene scoperta sta quasi per essere uccisa quando invece arriva Feng Ji mandando all'aria tutti i suoi piani distruggendo anni di tentativi per diventare alleato con il Duca Lu e quant'altro semplicemente per salvarla ma non ci riuscirà non ci riuscirà perché i soldati del Duca Lu accercheranno quindi entrambi sia Dong Yue e sia Feng Ji e li uccideranno a colpi di frecce lei Dong Yue si ritrova un'altra volta sulla foglia di Ninfea si ritrova un'altra volta con dinanzi Er Yu supplica Er Yu di poter tornare un'altra volta lui ci pensa un po' poi si mette a suonare il suo flauto e questo flauto inizia a rigarsi leggermente di rosso proprio appena appena dopodiché Er Yu gli dice ho messo della nuova energia spirituale all'interno del flauto dimmi in che momento vuoi tornare e ti farò di nuovo tornare in quel momento ma ricordati sempre che ogni volta che torni in vita l'energia spirituale che ti tiene insieme sarà sempre meno e ricordati anche che ogni volta che torni in vita ci sarà un conto da pagare lei torna quindi nuovamente in vita questa volta ricorda tutto e si fa mandare e questa è la parte che io non concepisco dalla storia si fa mandare proprio poco prima della decisione di andare a tentare di uccidere nuovamente il Ducalù arriva in un certo punto mentre stava andando si ritrova di nuovo lì ma decide di tornare indietro alcune spie di Feng Ji glielo riferiscono e lui non capisce cosa stia succedendo la storia nel frattempo va avanti lei cerca di fidarsi di più di Feng Ji perché ogni volta che succedeva un qualcosa poi comunque c'erano delle prove a suo favore e quindi cerca di dargli più fiducia cerca di rispettare di più le sue idee e di vedere come va a parare la storia ma il suo primo pensiero a prescindere dall'amore che ormai prova sistematicamente per Feng Ji è anche quello di evitare la grande battaglia di nuovo alti e bassi di nuovo problemi creati e a volte risolti da Feng Ji che questa volta riesce a uccidere due duchi il duca di Shin e l'altro che erano stati due dei quattro che Feng Ji in segreto si era preposto di portare alla morte per vendicarsi di un qualcosa Feng Ji ha anche un ciondolo di Giada molto particolare che lo dichiara come ultimo sopravvissuto della dinastia Ming non i Ming della vera dinastia ma la stirpe che si chiamava di cognome Ming in questa storia la famiglia Ming una sua ex non cameriera ma una donna che viveva prima nella casa di Feng Ji ma non c'era mai stato niente tra loro lei lo aveva salvato anni prima e lui per ringraziarla l'aveva resa signora di casa sua ma senza titoli senza niente senza mai averci avuto nessuna storia lei gestiva la casa la villa gestiva i domestici ed era amica con Feng Ji solamente che per Feng Ji era un'amica e mille volte gli aveva ripetuto ritieniti comunque sempre libera se un domani te ne vuoi andare se un domani trovi un uomo se un domani ti vuoi fare la tua vita fai quello che ti pare anzi se hai bisogno di soldi di aiuto cosa io sarò sempre disponibile in amicizia lei invece perché la strunz che si innamora del protagonista ci deve essere sempre era innamorata di Feng Ji quando si era vista piombare in casa Dong Yue e si era resa conto che Feng Ji si stava innamorando realmente di lei la paura di perderlo l'aveva fatta sragionare aveva spaccato in segne che Feng Ji aveva dedicato a Dong Yue aveva fatto casini vari ed eventuali fino a portare Feng Ji a mandarla completamente via questo succede quando a un certo punto della storia Dong Yue deve pagare lo scotto per essere rinata e Ryu l'aveva avvisata che ci sarebbe stato uno scotto da pagare questo scotto questa volta si verifica con la perdita graduale della memoria di Feng Ji che dimentica piano piano completamente solo lei inoltre quando cercano di ricordare i momenti insieme quando lei cerca di ricordargli chi è Feng Ji sembra sentirsi malissimo fino a tossire e sputare sangue tanto che lei si convince che per farlo stare bene lo deve lasciare lo lascia appunto nelle mani di Mo Ryo così si chiama Ryo Mo Mo Ryo non mi ricordo bene che è questa donna che faceva la padrona in casa e lei tutta felice e convinta finalmente di averlo per lei ma Feng Ji nonostante abbia completamente dimenticato Dong Yi Wei e quindi non sapere più nulla non essere più innamorato di lei perché non se la ricorda nella sua vita e via dicendo non vuole comunque restare niente a che fare con Mo Ryo tanto che alla fine la allontana appunto lo stesso questa donna però non si arrende prima di andare via pulendo l'ufficio di Feng Ji di Feng Ji con l'intenzione di dire lascia almeno che faccio un'ultima cosa per te trova questo sigillo di Giada che riporta un nome particolare al di sotto e lo porta via dopo poco tempo il duca Lu che ancora risulta essere comunque alleato con Feng Ji anche se non si fida più di lui lo invita nella sua residenza lui va pensando di parlare di questioni che riguardano la ribellione e quant'altro e invece si trova davanti Rom Mio che gli dice che si è fatta adottare dal duca Lu e il duca Lu lo costringe praticamente a sposare questa figlia adottiva lei aveva promesso al duca Lu in cambio di questo favore di dargli quel famoso ciondolo di Giada quel sigillo di Giada ma cos'era quel sigillo di Giada era la prova che Feng Ji fosse in realtà Yu Har il figlio legittimo della consorte imperiale della dinastia Ming e dell'imperatore stesso quindi il secondo principe il duca Lu vuole possedere questo sigillo per fingere che suo figlio che è un inetto idiota imbecille che va a donne e rimane anche sulla sedia a rotelle perché è un cretino e si fa malmenare vuole spacciarlo per il vero principe in modo da farlo dichiarare erede al trono legittimo quindi vuole questo sigillo perché questa è la prova che chi ce l'ha è il figlio dell'imperatore quindi promette a ron mio ron non mi ricordo mai se è mio ron o ron mio a questa donna che gli farà sposare fengi in cambio dell'accessione del sigillo di giada lei glielo promette poi fa l'altezzosa va a sbattere in faccia gli inviti anche a don di dicendogli che lei l'aveva fatta tanto soffrire ma alla fine aveva vinto lei lo stesso perché ora lui se la sposava era già nell'ufficio dei riti della residenza del duca lu intento a preparare questo matrimonio tanto che don due ci rimane malissimo perché erano sempre stati assieme ed è convintissima che in qualche modo anche se non sa come fengi sia stato ricattato dal duca lu tanto che si presenta il giorno del matrimonio bloccando la cerimonia e facendo scoppiare un casino che non finisce più poi arrivano anche amici perché ci sono anche storie collaterali che adesso non ho raccontato ma arrivano gli amici di fengju che cercano di spalleggiare dong yue che è loro amica e iniziano a combattere con gli uomini del duca lu ma vengono catturati tutti e legati nel frattempo il duca lu dice a mio ron di dargli il sigillo lei però gli da una scatola ma quando il duca lu la apre all'interno c'è un pezzo di giada ma è una una pietra di giada liscia il duca lu si arrabbia in maniera etagerata prende la spada e uccide mio ron mentre lei sta per morire dice avvicinandosi a fengji che comunque erano stati amici per tanti anni che comunque non ce l'aveva fatta a tradirlo nonostante le intenzioni iniziali e poi gli dice qualcosa all'orecchio ma i soldati del duca lu avevano catturato dong yue il nipote di fengji e la fidanzata del nipote diciamo gli amici di fengji e lo stavano ricattando comunque che avrebbero ucciso anche loro allora fengji gli dice che lui sa dove mio ron aveva nascosto la giada e gli dice al duca di seguirlo il duca lo segue in un passaggio segreto della villa stessa ma lui conosceva un trucco nel quale se avesse schiacciato una determinata pietra sarebbe crollata tutta la volta della grotta decide di sacrificarsi schiacciando questa pietra e sperando di salvarsi comunque in qualche modo inizia a crollare tutto ma arriva dong yue che nel frattempo sarà liberata per cercare di tirarlo fuori di aiutarlo e invece fa un casino perché la grotta crolla il duca muore la sua guardia muore ma le pietre stanno arrivando addosso a dong yue e quindi feng ji per salvarla ci si butta sopra e se ne prende tutte lui addosso e muore un'altra volta succede che lui è morto dong yue lei però no tenta comunque di uccidere il duca lu ma alla fine viene uccisa di nuovo anche lei e si ritrova un'altra volta sulla ninfea di fronte a r yu gli dice io non voglio io voglio salvare feng ji non voglio che muoia e lui gli dice mi è rimasto pochissimo potere spirituale se ti rimani indietro un'altra volta lo finisco tutto non ti potrà proteggere per sempre e inoltre lo scotto che avrai da pagare questa volta sarà molto più alto la volta precedente lo scotto che aveva avuto da pagare era stata di non poter far nulla e rivivere nuovamente la morte di suo padre lei era rimasta orfana da bambina e in quella circostanza aveva incontrato la se stessa bambina ricordandosi improvvisamente chi era stata all'inizio Mayway Mayway figlia di un diplomatico persona onesta e retta che poi viene ucciso da dei banditi lei sperava di salvare anche la vita di suo padre perché ricordava di averne sofferto terribilmente ma non riesce perché era lo scotto da pagare quindi si vede nuovamente si rivive nuovamente la scena del padre che viene ucciso oltre a vedere anche se stessa bambina quindi Mayway che in quel periodo è bambina che soffre a bestia e lei sa di essere lei quando era più piccola quello era il suo scotto in quella rinascita ritorna un'altra volta e ritorna poco prima del del trambusto successo alla grotta ma subito dopo comunque che Mioron era stata uccisa già almeno quella si era sciacquata dalle palusse interrompe il Ducalù dicendogli che è lei che sa dov'è nascosto il ciondolo e il Ducalù quindi prende lei per portarla a prendere il ciondolo ma in questo modo sarà invece Feng Ji a inseguirli cercando di fermarli li raggiungerà prima che entrano nella nella grotta e quindi non ci sarà il crollo non ci sarà niente arriverà il terzo principe con l'esercito cercando di arrestare il Ducalù di cui già si sapeva che era traditore ma non ci riuscirà però si salveranno sia Feng Ji e sia Dong Yu il Ducalù scappa col suo tirapiedi mano a mano che le storie si intersecano Dong Yu comprende sempre di più tutto ciò che sta facendo Feng Ji Feng Ji era figlio dell'imperatore appunto il secondo principe e della concubina di corte della moglie imperiale Lady Ming della famiglia Ming il fratello di Lady Ming lo zio di Feng Ji era stato un potente generale dell'esercito dell'imperatore e amico di infanzia stesso dell'imperatore ma man mano che vinceva battaglie su battaglie la sua fama e la sua gloria erano diventate talmente importanti presso l'impero stesso quasi da offuscare il nome dell'imperatore stesso e questa cosa all'imperatore non andava giù si verrà a scoprire grazie a delle lettere segrete trovate nascoste e poi ritrovate da Dong Yue e via dicendo che tutta la pantomima che era nata atta a screditare tutta la famiglia Ming atta a far dare la pena di morte allo zio di Feng Ji e atta anche a far suicidare la mamma stessa di Feng Ji che per disperazione per cercare di far cambiare idea al marito quindi all'imperatore di non accusare il fratello si era suicidata da una testata contro il muro mentre Feng Ji era stato salvato da uno dei soldati e portato di nascosto alla famiglia Ji che poi l'aveva cresciuto e l'aveva dichiarato come figlio suo ma in realtà lui era il secondo principe tra l'altro era l'erede legittimo al trono ma quando il fratello il terzo principe che era diventato nel frattempo l'erede al trono ufficiale gli chiede scopre che è suo fratello gli chiede cosa vuole fare e lui gli risponde che lui non è interessato al trono non è interessato al nome non è interessato a nulla che riguarda la corte lui vuole solo la sua vendetta per chi ha spinto sua madre al suicidio e ha buttato nello scredito tutta la famiglia di sua mamma quindi della famiglia Ming uno era il duca Lu uno era il primo ministro di sinistra che poi verrà ucciso proprio da Feng Ji e anche dal terzo fratello che nel frattempo il principe ereditario si è rapacificato col fratello e decide di stare dalla sua parte succede però che l'imperatore fa ferro e fuoco per arrestare il funzionario Feng Ji ma una volta che viene arrestato e viene perseguitato non è arrestato ma perseguitato e non può più far vita si deve nascondere e via dicendo Dong Yuwei decide di giocare un'ultima carta decide di presentarsi dall'imperatore raccontargli tutta la storia mostrargli le prove di alcune lettere scritte dall'imperatore stesso che raccontavano di far finta che il generale Ming fosse un traditore e poi in qualche modo ricatta l'imperatore stesso gli dice in pratica Feng Ji è vostro figlio invece di continuare a cercare di uscire riappacificatevi con lui lo dichiarate principe ufficiale in fine conti è vostro figlio quindi avete lo stesso sangue e in cambio siccome le lettere di prova che voi centrate cioè che l'imperatore centrava nello screditamento finto della famiglia Ming non verranno mai a galla e Feng Ji non ne saprà mai nulla ma in realtà Feng Ji sa già che è stato l'imperatore a ordinare tutto a fare in modo che la famiglia di sua madre venisse screditata e bandita dalla corte però sta al gioco l'imperatore fa la scenetta commovente ma è mio figlio ma allora cambia tutto digli di venire e lo dichiarerò ufficialmente come mio figlio e pubblicherò per tutto il regno la revoca delle accuse fatte alla famiglia Ming in modo che la famiglia Ming torni a essere onorevole accusando il duca Lu il primo ministro di sinistra e quelli che hanno complotato contro la famiglia Ming Dongue vuole credere all'imperatore lo vede disperato lo vede attaccato è sangue del mio sangue qua la sua giù e dice a Feng Ji di andare all'inaugurazione e alla riconciliazione con il padre Feng Ji accetta ma ha già preparato una contromossa lui prepara sempre tutto prima va a questo incontro e chiede che questo incontro venga fatto proprio nell'ex dimora di sua mamma la la sala Mei Wei Wei Mei Mei Wei e lei Wei Mei e la sala l'imperatore accetta e subito fa l'amicone fa quello che chiede scusa potrei mai perdonare tuo padre sono stato vittima anch'io delle falsità scritte dal primo ministro di sinistra è colpa mia che non ho indagato perdonami si offrono dei brindisi un con l'altro ma mentre a Dong Yue che è al tavolo con loro e a Feng Ji il vino viene servito da una brocca che ha in mano un servo all'imperatore viene servito da un monaco taoista che già da qualche tempo sta seguendo l'imperatore come guida spirituale l'imperatore è molto superstizioso però l'imperatore sta sempre più male sta sempre peggio ha problemi di salute a volte non si regge in piedi e il monaco taoista gli continuava a dire che doveva coltivare se stesso senza farsi stress senza farsi vincere dalla rabbia e quant'altro quindi il medico taoista è quello che sta versando il vino al re Feng Ji fingerà di svenire mentre Dong Yue che era ben propensa e credeva realmente all'imperatore sviene per davvero ma l'imperatore aveva ordinato che mettessero nella brocca di Feng Ji e di Dong Yue del veleno in realtà Feng Ji aveva cambiato tutti gli operatori della cucina e invece che il veleno aveva fatto mettere nella brocca un sonnifero lui aveva preso anzitempo l'antidoto per non svenire però aveva finto di svenire arriva il terzo principe che era stato rinchiuso nelle sue stanze perché aveva osato dire che forse era il caso di perdonare Feng Ji e l'imperatore si era imbestialito arriva anche lui con le sue guardie e tutto Feng Ji invece si ritira su l'imperatore ci rimane così dovevi essere morto perché sei vivo perché sapevo già tutto ho cambiato i personaggi in cucina sono tutti i miei scagnozzi dice è vero che io sono tuo figlio ma tu adesso vieni con me lo prende per il colletto e trascina l'imperatore fino a una stanza segreta dove lui aveva creato un altare per i defunti della famiglia Ming e dove li onorava con i bacchettini di incenso gli dice di chiedere scusa più volte alla famiglia Ming la famiglia Ming cioè l'imperatore accampa delle scuse ma a Feng Ji non vanno tanto bene gli dice che è solo un buffone che sa recitare ma poi decide di non ucciderlo quindi lo lascia lì a piangere a fregnare e esce fuori dalla stanza dice a Dong Yuwei che comunque aveva rinunciato alla vendetta mortale a patto che l'imperatore avesse ammesso che la famiglia Ming era in realtà stata sempre fedele questo perché perché l'imperatore era stato lui a ordire tutto volendo uccidere il generale Ming e screditarlo perché secondo lui aveva più potere di lui ed era più conosciuto e più benvoluto dalla gente rispetto allo stesso imperatore era geloso solo per me era gelosia la moglie appunto una delle mogli la concubina Ming si era suicidata sperando di far cambiare al marito idea sul fatto dell'accusare il fratello e quindi la colpa era dell'imperatore in primis ma mentre Feng Ji sta dicendo a Dong Gui adesso noi ce ne andiamo quello che volevo fare l'ho fatto gli ho fatto chiedere scusa agli antenati per me la situazione è chiusa così che viva pure nella sua vergogna sono affari suoi lui aveva reciso ogni rapporto di parentela si era tagliato la mano aveva bagnato la giada con il timbre e gli aveva detto ora io vi ridò il vostro sangue e io e te non siamo più padre e figlio dimenticami proprio e se n'era andato ma l'imperatore che già era cagionevole di salute da parecchio tempo sviene a terra mentre i servi lo stavano andando a recuperare da dentro la stanza dove aveva dovuto chiedere scusa agli antenati l'imperatore si sente male si sente male lo portano subito sul primo letto che c'è lì nella stanza e vanno a chiamare il medico imperiale nel frattempo i due fratelli quindi Feng Ji e il terzo principe discutono per cercare di capire chi possa avere fatto qualcosa di male all'imperatore visto che Feng Ji si era limitato a bere il vino che gli era stato versato Dong Yue anche poi lei proprio era all'oscuro anche delle trame esterne e il terzo principe era arrivato solo dopo ma Feng Ji gli dice stai attento a quello che dici al terzo fratello perché tu sei più a rischio di me a essere accusato di complotto il terzo fratello non capisce perché lui è molto buonario molto buono cioè in che senso io non ho fatto niente sono arrivato dopo dice sì però tu sei la re dal trono per la politica hai più interesse tu a far fuori l'imperatore che non io che abbiamo litigato e poi è finita lì quindi stai attento a come parli perché qualcuno mi sa che ti vuole incastrare e infatti il monaco taoista cerca proprio di accusare il terzo principe di instaurare nelle orecchie della gente dei presenti dell'esercito eccetera che il terzo principe potrebbe aver complottato tanto che la gente i soldati cominciano a far fugliare tra di loro il terzo principe cerca di zittirli dicendo che è assurdo lui era già l'erede al trono che senso avrebbe avuto uccidere suo padre ma il monaco taoista continuò a insinuare che era proprio per quello per avere prima il trono allora i soldati tutti insieme i generali che sono presenti dicono che nessuno si deve muovere da quella stanza affinché non verrà appurato chi è il vero avvelenatore perché nel frattempo era arrivato il medico e aveva appurato che l'imperatore era stato avvelenato chi era stato ad avvelenare l'imperatore fengji allora si dichiara colpevole ma i soldati e il monaco taoista che poi era stato lui in realtà ad avvelenarlo di volta in volta poco per volta sempre di più per ordine del duca lu ma queste cose si scoprono in sordina fengji si dichiara colpevole il terzo fratello gli dice sei scemo per aver ucciso l'imperatore c'è la decapitazione sei morto non ti accusare di cose che non hai fatto e lui gli dice no sono stato io ma i generali non sono convinti e il monaco taoista per cercare di infilare sempre il terzo principio quindi di farlo togliere dall'eredità del trono continua a insistere non può avercela fatta da solo perché fengji non aveva attacco a ganci qui a palazzo di conseguenza deve esserci un suo collega di trama allora questa volta qua in quest'ultima rinascita don ghiue si fida completamente adesso di fengji si gira verso il monaco taoista e gli dice la complice sono io lui dice non è possibile anche tu non hai a ganci a palazzo dice è vero ma io ero al tavolo con l'imperatore e con fengji mentre l'imperatore era distratto a parlare con suo figlio con fengji io d'accordo con fengji gli ho versato il veleno nella tazza l'abbiamo ucciso noi li portano quindi in carcere ma il terzo fratello l'erede al trono che sapeva perfettamente che non era stato suo fratello a uccidere l'imperatore lui voleva solo vendicarsi facevano gli chiedere scusa ma non voleva ucciderlo gli dice di portarli in prigione che poi li avrebbe interrogati lui stesso giorno dopo l'erede al trono che ormai stava diventando imperatore li va a interrogare fa uscire tutti i soldati in modo che rimangano da soli e gli dice che ha già preparato tutto per farli scappare e farli andare via ma fengji gli risponde che no non vanno via non scappano perché se in quel momento loro fossero scappati la gente avrebbe di nuovo insinuato che in qualche modo il terzo principe era coinvolto e li aveva aiutati e invece lui era l'erede al trono e doveva salire sul trono e il terzo principe gli diceva io non voglio che morite per una cosa che non avete fatto ma fengji e dongue si prendono per mano e gli dicono che la loro decisione è quella hanno vissuto insieme finché hanno potuto moriranno insieme quando dovranno morire poco tempo prima era successo che dongue si era sentita male per mancanza di energia spirituale ed era svenuta mentre fengji cercava di tirarla su di rianimarla non capiva cosa gli stava succedendo era entrato in catalessi in trance e si era ritrovato lui stesso sulla fatidica foglia di ninfea trovandosi di fronte a Ryu lui come lo vede lo guarda e gli dice allora sei tu a Ryu perché dongue gli aveva parlato gli aveva raccontato che lei era fatta di radice di loto gli aveva raccontato tutto gli dice ma chi sei e lui tira giù il cappuccio e gli dice sono te e si vede la faccia di di fengji ma rovinata bruciata in tutte le sue parti la guarda gli dice sei uguale a me però c'è qualcosa che non va gli dice ti spiego tutto io sono il tuo contrario il tuo vero nome era you are da principe io sono are you sono il tuo opposto sono la parte di odio e rabbia che tu hai avuto nella tua prima vita e lui lo guarda gli dice prima vita in che senso gli dice anche tu sei già stato in vita e sei morto sul campo di battaglia sei morto perché il duca Lu ha tradito alla fine tutti anche te ma la tua rabbia della tua ossessione di voler a tutti i costi rialzare il nome della famiglia Ming e tutto quanto e non esserci riuscito ha creato me io poi vagavo vagavo come un essere vivo sulla terra ma non avevo più possibilità di muovermi in nessun modo e poi in ogni caso sei tu la mente pensante io sono solamente un riflesso di una parte di te la parte che odia e mentre vagavo per la terra ho incontrato una bambina era rimasta poco orfana del padre era Mei Wei ovvero Dong Yue da bambina l'ho presa sotto la mia ala l'ho cresciuta gli ho insegnato tutte le tecniche che conoscevo di arti marziali e quant'altro e poi l'ho mandata alla battaglia sperando di cambiare le sorti del destino ma mentre la crescevo mentre stavo con lei il mio affetto per lei si legava talmente tanto di aver deciso di rimandarla a me cioè di mandarla a te e lui cerca di capire ma non capisce bene però il succo l'ha capito che Er Yu era sempre lui si risveglia da sta specie di trance porta subito Dong Yue a letto che poi si riprende ma non le dice niente fino alla fine poi appunto succede tutta la situazione arriva il giorno dell'esecuzione Dong Yue e Feng Ji vengono portati con il carretto da pubblica piazza verso il boia il terzo principe però ha decretato che la loro decapitazione verrà fatta all'interno di un tendone a porte chiuse perché almeno questo glielo deve per privacy verranno quindi giustiziati ma dopo due secondi si vedono entrambi vestiti in maniera elegante che vanno a ringraziare il terzo principe e Dong Yue gli chiede ma che avete fatto decapitare al posto nostro perché due corpi li hanno seppelliti chi c'era al posto nostro non avrete mica ucciso due innocenti e il terzo principe gli dice sapete come sono non avrei mai ucciso degli innocenti ho ucciso due persone le ho fatte decapitare ma non erano per niente innocenti anzi erano i veri colpevoli ho fatto decapitare il monaco taoista che appunto era quello che aveva avvelenato il vino dell'imperatore e la sua subordinata che era una monaca che seguiva il taoista detto però abbiamo anche scoperto che sono stati mandati dal duca Lu aveva già scoperto tutto Feng Ji gli dice che devono ancora sistemare la questione del duca Lu e dopo di quello scompariranno per sempre il terzo principe alla fine gli dice fa come te pare cerca di tornare sano e salvo perché la battaglia ci sarà sicuro Dong Yue nel frattempo sta pensando ho fatto questo viaggio nel tempo ma alla fine il destino non cambia sicuramente non dovevo nemmeno non far avverare questa guerra secondo me alla fine dovevo solo ritrovare lui ma lo pensa lei e invece Feng Ji gli dice comunque vadano le sorti della battaglia sia che vinciamo sia che moriamo in battaglia questa è comunque l'ultima volta che ci vediamo si salutano come si salutavano da bambini dandosi il pugno uno con l'altro e l'imperatore gli dice fai come vuoi vanno alla battaglia alla fine dopo 10.000 spadacciate colpi di qua colpi di là cosa accadrà cosa accadrà no quella lì era la stella della senna però io le parti dove combattono si ammucchiano si ammazzano normalmente le mando avanti perché mi faccio duballe così non mi piacciono i combattimenti mi annoiano quindi ho mandato avanti il pezzo della battaglia e alla fine riescono a uccidere il duca Lu la vendetta è fatta è finita la piccola Dongyue che si chiama Wei Mei è al momento al palazzo invece del principe del terzo principe che le sta comunque insegnando la le arti marziali perché lei vuole impararle e invece Dongyue e Fengji si ritrovano nella vecchia casa dove si erano conosciuti all'inizio una villetta in montagna poco prima che la battaglia scoppiasse però Dongyue si era accorta che Fengji nutriva il flauto che la teneva in vita con il suo stesso sangue si bucava e dava del sangue suo al flauto per mantenere la vitalità vibrazionale e spirituale ma lei sapeva anche che a sua di perdere sangue alla fine poi avrebbe avuto dei problemi di salute se non avesse rischiato anche di peggio lui però nel frattempo poco prima della battaglia le aveva anche raccontato di aver scoperto di essere R.U cioè che R.U e R.U erano la stessa persona quindi lui e R.U erano la stessa persona gli ha raccontato della visione e tutto quanto ma non gli ha detto che R.U durante l'incontro gli aveva detto l'unico modo per salvare dal dissolversi del tutto il corpo di loto di Dongyue lo puoi trovare solo tu era da lì che lui aveva cominciato a nutrire il flauto col suo stesso sangue sperando di dare la sua vitalità in cambio della vita di lei ma lei appunto se ne era accorta e quindi lascia una lettera mentre Feng Ji dorme dicendogli che si era accorta di quello che stava facendo eccetera ma non voleva che lui rischiasse visto che lei era tornata in vita due volte proprio per salvare la vita a lui quindi era assurdo che ora lui morisse di nuovo per lei e spacca il flauto di Giada infatti lui lo trova per la mattina ha rotto in tre parti lei è scomparsa e gli ha lasciato questa lettera lui è solo si vede per un certo periodo lui che gira per le città lui che va va sul pontile cerca di vedere la luna o cerca di vedere l'orsa non l'orsa maggiore la la stella polare perché una volta Dongyue gli aveva detto che alla stella polare si potevano chiedere dei desideri e si vede per un bel po' lui che vaga nel frattempo suo nipote aveva detto al terzo al terzo re d'altrono all'imperatore perché ormai era l'imperatore che il fratello era morto in battaglia e Dongyue anche perché aveva voluto così Fengy stesso e tutti i giorni però lui passeggiava in tutti i luoghi dove avevano passeggiato insieme lui e Dongyue sempre sperando sempre di rivederla perché lei in fine di lettere gli aveva scritto non so quanto tempo passerà ma troverò un modo per tornare di nuovo da te il telefilm finisce con lui che sta rientrando nuovamente nella villetta come tutti i giorni dopo tutte le sue camminate e di spalle si vede una ragazza che dovrebbe essere appunto Dongyue e lui rimane fermo così a guardarla poi l'inquadratura si alza dall'alto fino a scomparire quindi diciamo che certezze non ne lascia questo finale mi ha lasciato un po' così perché lui che passeggia sembra che passi tanto tempo ogni giorno la stessa passeggiata triste però d'altra parte lui non cambia è sempre lui è sempre uguale ma c'è anche da dire che lui era già risorto una volta come gli aveva spiegato Er Yu che era lui stesso ma che si era autocreato nel momento della sua prima morte quindi può essere che anche lo stesso Yu Er lo stesso Feng Ji avesse un corpo di loto senza saperlo lei non si capisce se Dong Yue ovvero Dong Yue la sua Dong Yue che era riuscita a tornare un'altra volta o se in realtà non fosse Wei Mei cresciuta visto che si vedeva lo scorrere del tempo però Wei Mei cresciuta non avrebbe senso che lo va a trovare perché la Wei Mei bambina anzi non lo poteva vedere tutte le volte lo trattava sempre male quindi rimane un po' così lei per le prime due almeno per i primi due ritorni in vita ha sempre avuto l'idea che doveva fermare quella battaglia in realtà quella battaglia non riuscirà a fermarla mai e ci sarà sempre ma le prime tre volte la prima iniziale la seconda alla prima morte di Dong Yu e la terza alla sua seconda morte cioè terza morte facevano in modo di far morire sempre anche Feng Ji quindi alla fine lei si rende conto che ha pensato per tutta la sua esistenza fino a quel momento che il suo compito era di fermare quella battaglia prima che accadesse quando in realtà lei tornava solo per innamorarsi e per trovare lui Feng Ji che poi era stato il suo e Ryu colui che l'ha cresciuta e colui di cui lei era innamorata sin da bambina è un molto contorto a livello di spazio tempo però c'è questo errore di valutazione quando noi a volte pensiamo di dover fare assolutamente una cosa in realtà lo scopo del destino e tutt'altro lei pensava che il suo compito sarebbe stato bloccare la battaglia e salvare tutti quei poveri che erano morti nella prima battaglia salvare tutti gli innocenti che era un compito enorme in realtà il suo solo compito era quello di ritrovare Feng Ji innamorarsene e fare in modo che non morisse era molto più terra terra e questo succede a tutti a volte pensiamo di avere dei compiti importantissimi a livello di ego nella storia dell'umanità quando in realtà magari il nostro compito è semplicemente fare in modo che questo oggetto non si perda fare in modo che la statuina venga spolverata fare in modo di fare un figlio o di non farlo di salvare un gatto dalla strada e quello è perché siamo arrivati qua quello era il nostro compito in questa vita non dovevamo diventare i presidenti della coda cons o non dovevamo fare la lotta antivaccino o provaccino antivivisezione o provivisezione vegana o carnivora e quant'altro ma dovevamo magari semplicemente appunto adottare un gattino di strada parlare con due anziani che si sentivano soli non abbandonare la mamma all'ospizio o qualsiasi altra cosa che a occhi normali sarebbero dei gesti normali ma che in realtà possono essere i nostri compiti reincarnici ovvio noi non torniamo nella stessa vita in questo modo ci torniamo quando sbagliamo il compito con i loop reincarnici ma non ci torniamo come lei che si ricordava anche di essere tornata magari sarebbe un pelo più semplice ma con tutto ciò che per lei sarebbe stato più semplice lei per quattro volte praticamente non aveva ancora capito il senso del perché tornava perché c'era sempre qualcosa che la fuorviava quello che io non ho compreso di questa storia la parte diciamo fatta male di questo racconto che poi in realtà è un romanzo è un romanzo che si intitola Yu Yuzai Chi da qui poi è stato tratto il il telefilm però lei quando era Yu gli ha chiesto la prima volta dimmi in che momento vuoi tornare la la seconda volta che era morta e lei gli ha detto poco prima di andare a cercare di uccidere il Ducali così almeno Feng Jin muore ecco io quella decisione lì l'ho trovata estremamente flop della storia perché hai fatto un casino infernale da quando l'hai conosciuto fino a quel momento poi ti basta solo arrivare dieci minuti prima per salvarlo ma torna indietro dall'inizio e giocatela diversamente visto che la sai tutta stavolta poi la seconda volta di nuovo muori lui è stato rapito dal Ducalù è morto tuo padre e tutto quanto e tu dove torni al momento del matrimonio ma torna prima salva tuo padre salva tutti fai un'altra cosa e cambi il destino visto che lei voleva cambiare il destino non è la questione di dire che si può creare uno sballamento spazio-tempo un paradosso temporale come raccontava il grande doc in back to the future in ritorno al futuro che non si poteva toccare niente perché sennò si poteva creare un paradosso temporale ma in quel caso lì non sussiste perché lei in teoria era tornata indietro proprio per creare un paradosso temporale cioè per cambiare i destini quindi alla fine invece che arrivare fino al punto sofferente e rischiarsela ma fatte mannare di nuovo indietro dei otto anni e hai tutto il tempo un'altra volta di sistemare la situazione no? se io faccio un errore grosso ma ne ho fatti 20 30 50 500 ho perso il conto nella mia vita e l'ultimo lo faccio ora è inutile che torno a 10 minuti prima di questo errore ma tornerò all'inizio del primo errore fatto in modo da far andare tutto in un altro modo dato che ora so come va e so dove sono dove non sono cosa sono cosa non sono dove è nascosto quello dove è nascosto quell'altro e via dicendo questa è stata l'unica parte che secondo me ha un po' cheppato la decisione di lei perché era lei a decidere in che momento tornare nuovamente indietro è stato l'unico deficit della storia per il resto te l'ho detto quello che fa maggiormente pensare e che mi ha fatto riflettere è proprio quello lì che l'ego umano a volte pensa ci autoconvince è un po' come quelle frasette che io non sopporto mai di autocompiacimento io ce la faccio io posso farcela io so bella oh quanto so bella e io quelle cose lì per darsi la carica non le sopporto io mi sentirei un'idiota a dire io ce la faccio io so bella io ce la posso farcela mi sentirei cretina se posso dice prove vediamo come va ovvio che non mi dico neanche il senso contrario non ce la farò mai faccio schifo e quant'altro è ovvio non mi piacciono né le frasette autodemoralizzanti ma nemmeno le frasette di forza e coraggio le trovo idiote io sono una persona estremamente pratica quindi valuto la situazione e dico lì ce la posso fare lì non ce la posso fare lì ce provo come va va fine ma quelle auto perché io mi merito perché io sono perché se ce la fanno tutti ce la devo fare anch'io non sono mica da meno io quelle cose lì non le sopporto una persona che si dice una cosa del genere per me c'è un egocentrismo che si crede dio in terra e normalmente quelle persone che si dicono così tanto quanto so bella quanto so brava ma so più bella o più brava normalmente non sono niente non sono né belle né brave quindi alla fine mi lasciano un po' il tempo che trovano e le frasette ripeto non le sopporto poi se te le dice a qualcun altro allora te lo dice per sprono se io ti dico ma no guarda che ce la puoi fare io te lo dico solo se è vero se penso che non ce la puoi fare a fare una cosa ti dico guarda lascia perdere cambia idea te lo dico in maniera educata in maniera gentile ma è inutile che sto a farti da facciate su facciate autoconvincendoti con frasette che anze che ce la puoi fare quando non è nelle tue possibilità farcela o viceversa però se qualcuno ti dice ma tu sei brava ce la puoi fare ma guarda quanto sei bella posso capirlo che siano delle frasi magari in amicizio cosa per aiutare a dare lo sprint ma se te le dice a qualcun altro ma se te le dici da solo c'è qual quadra che non cosa comunque anche stasera un'ora e mezza vabbè ma i Chuck si evoca sono sempre così perché dipende dalle puntate queste erano 46 e ho omesso un sacco di particolari come l'amore sfrenato del nipote con la cameriera che poi è diventata nipote pure lei però siccome non erano parenti potevano stare assieme come la morte del povero soldato che aveva sacrificato tutta la sua vita per cercare di salvare appunto il secondo principe ovvero Feng Ji ho saltato la parte della storia del delinquente che poi però grazie a Feng Ji si era aperto un ristorante e aveva cominciato a camminare sulla retta via riprendendo in mano la sua vita ma poi il cognato invidioso piccolo ragazzino e fa nullone lo tradisce e lo pugnala pure omettendo la storia della principessa dei monti Han che era rimasta orfana e ci teneva a far vedere che la tribù dei monti si era resa quel giorno ma anche lei si era innamorata di Feng Ji omettendo che una delle mogli dell'imperatore era la sorella dichiarata di Feng Ji ma in realtà sorella adottiva perché lui era il figlio vero dell'imperatore e si era sposata con l'imperatore solo per aiutare Feng Ji ma in realtà era sempre stata innamorata di Feng Ji anche lui che manco Elvis Presley però attori allora Feng Ji lo interpreta Jin Han io adoro quell'attore ha fatto pochi filmetti finora Jin Han è anche relativamente giovane è un ragazzo non mi ricordo se è del 90 adesso comunque è relativamente giovane non mi ricordo di che anno è del 93 ecco del 93 ha 29 anni ma è veramente bravissimo mi piace tantissimo come attore lavora proprio bene ma anche gli altri comunque sono stati veramente validi l'imperatore che era Hong Jiang Tao che ha fatto parecchi parecchi film sempre come party diciamo secondarie però aveva fatto The Golden Age di cui non ho parlato perché comunque era una storia moderna che non aveva niente a che vedere con il paranormale aveva fatto delle apparizioni in Le Leggende di cui avevo raccontato nella all'epoca si intitolava la serie La Principessa Fantasma no La Regina Fantasma e il Re Demone qualcosa del genere adesso si chiama The Legend perché ci hanno cambiato il nome le leggende però anche lì aveva fatto delle piccole parti anche lui bravissimo lui è un attore un po' più datato non mi ricordo di preciso di che anno sia Hong Jiang Tao è del 65 cioè da 56 anni quindi comunque già affermato come e lui lavora molto bene anche come attore ma anche le ragazze della serie hanno lavorato veramente bene sono state proprio brave carina ve la consiglio e vi consiglio invece di ragionare sui discorsi finali di questo Chuck si evoca perché ragionarci aiuta sempre a rimanere inquadrati a comprendere e comprenderci meglio detto questo Lady Ghost e Lady Sadako risalutano un'ora e mezza anche stasera si pubblicherà domani ma va bene così senza parola vabbè da Vasco alla stela della Senna stasera proprio nemmeno un minimo di filo logico tra una canzone e l'altra tanto per cantare tanto per cantare qui sotto come al solito tutti i link dei vari social dove mi trovate un po' più sotto tre o quattro degli invece millemila link che tengono in venite i miei libri ad oggi sempre sette ma sto sulla buona strada ce sto ma non vi dico su cosa però ce sto un po' più sotto tre o quattro delle invece millemila librerie in tutto il mondo che tengono i miei libri perché mi ha chiesto anche le spedizioni all'estero tramite Amazon Libri tramite Street Lib Totem e mi sembra anche IBS le spedizioni e le ricerche si fanno anche dall'estero a qualsiasi paese senza problemi di sorta anzi vi ringrazio per avermelo chiesto detto questo faccio a rale dico ciri ciao gente no sembra talco ma non è neanche ciao 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 ciao